Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La principessa del Galles non appare in pubblico dallo scorso Natale 2023, un fatto più unico che raro, considerando come in tutti questi anni Kate sia stata sempre molto presente in tutte le apparizioni pubbliche. In seguito all'intervento chirurgico dello scorso gennaio, la consorte del principe William è sparita totalmente, un silenzio che ha iniziato ad allarmare i sudditi e soprattutto ad alimentare le voci più disparate. Ad inizio marzo, un comunicato da Kensington Palace ha cercato di rassicurare tutti in merito alle condizioni di salute della principessa, ribadendo che non tornerà sulla scena pubblica prima di Pasqua. Tuttavia, non sono bastate poche righe a rassicurare i sudditi britannici, le speculazioni continuano a spopolare e tra le tante ne è spiccata una in queste ore che sta lasciando tutti di stucco. Riguarderebbe questa volta la sfera privata e sentimentale della principessa. Il vero motivo per cui, secondo molti, non si farebbe vedere più in pubblico. Kate e William sarebbero alle prese con una crisi coniugale scaturita da presunti tradimenti del marito. In queste ore è stato persino fatto il nome della presunta amante. Si tratterebbe dell'ex modella Stella Roseberry, marchesa di Comelei, che già in passato era stata additata come presunta amante di William. In realtà, sono voci e speculazioni che vanno avanti dal lontano 2019, quando per la prima volta i tabloid britannici riportarono la notizia di questo presunto flirt. Secondo alcune fonti citate da Vanity Fair, di lei si diceva che la moglie del marchese e amica di Kate potesse essere stanca del suo matrimonio e si fosse avvicinata al principe William. Kate avrebbe scoperto la situazione, affrontato il marito, ma quest'ultimo avrebbe negato categoricamente le voci sulla presunta relazione. Le speculazioni sulla presunta relazione tra William e Roseberry sono aumentate durante il periodo di convalescenza di Kate dopo la nascita del terzo figlio. Tuttavia, queste indiscrezioni non sono state confermate e rimangono solo speculazioni.